Salve, mi chiamo Marco Zaninelli e sono il direttore industriale di questo stabilimento. Vi voglio raccontare cosa noi facciamo con il riso, prezioso dono della natura, della terra, dell'acqua e del sole. Qui non lavoriamo solamente il riso, nelle nostre riserie del bianco e del parboid, ma lo trasformiamo, lo valorizziamo, producendo tanti prodotti importanti come farine, latte, risotti ricettati dry e risotti a rapida cottura. Il nostro impegno, la nostra passione, il nostro lavoro, la nostra esperienza e la nostra tecnologia sono gli ingredienti che aggiungiamo durante la trasformazione del riso per ottenere prodotti di alta qualità. In questo stabilimento lavorano circa 200 persone. La produzione è continua, 365 giorni all'anno per 24 ore. Ogni giorno lavoriamo più di 5.000 quintali di risone, confezioniamo circa 3.000 quintali di riso, dalle nostre linee escono più di 12.000 risotti e in un anno produciamo più di 5.000 milioni di litri di latte. Tutti questi prodotti sono caratterizzati da un'attenta e profonda ricerca, da uno sviluppo importante e costante, e da una qualità che vuole portare sulle vostre tavole benessere, salute e naturalezza, che solo Riso Scotty può darvi.